Giro, giro, tondo, casca il mondo, casca lo zombie, tutti giù per terra Oh no 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 Allora, aspettate, 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 parliamone, parliamone, andate a cagare Allora, devo fare tipo come prima, vai! Attacca, assatana, assatana! Vai, 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 vattene via, vattene via, vattene via, no 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 ciao ragazzi benvenuti in questa nuova puntata di lucky sky wars e siamo qui di nuovo su questa mappa la mappa delle piccole cose brutte cristo santo che hanno visto non ha visto allora aspettate allora dobbiamo buttarlo giudiamo buttarlo giù allora io non ho problemi con te però mi fa incazzare io t'ammazzo aia aia giro giro tondo casca il mondo casca lo zombie tutti giù per terra via qua vai vai cadica di 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 oh cristo vai a sotano perfetto già uno se n'è andato ragazzi miei arco una gesto va bene già la madonna oggi ci trattiamo bene ci trattiamo perfetto del pollo del po pollo vieni qui fatti uccidere bravo pollo vedi tu sei molto bravo hanno giunto finalmente i polli ria saprino c'erano non lo so bella domanda non lo so e c'è anche un altro lucky block da queste parti due c'è sono sotto ovviamente di qui non vedo eccolo qua perfetto ecco lucky block e c'è una bedrock che bello infatti poi c'è gente che suona ovviamente non è che dice ulisse sta registrando non è che mo diamo fastidio ulisse mentre registra no tranquillo vai suona non preoccuparti cioè va a cagare ok e va perfetto facciamo così oh no c'è sto con un arco ho trovato la matura completa però non ho quello che mi serve ovvero qualcosa di buono e utile da mangiare oh ma qui non c'era la parte di sotto infatti c'è la parte di sotto ovviamente ok qui c'è trovo trovati tipo di meloni se non sbaglio ho trovato qualcosa ho trovato una oh ovvio quello tipo mi fa volare una cosa del genere ho trovato oh cristo che ho trovato un arco ok raga mi sapevo non so se ci uccide però meglio parla attenzione ho trovato due archi la madonna 40 frecce va benissimo e dicevo qualcuno qua vicino a santa blocchi vedete ragazzi mi lo dice anche quindi ovviamente devo fare molta attenzione adesso è che la madonna 3 addirittura ok bedrock pollo pollo muori perfetto cibo e mi decimo no 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 aspettate 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 parliamone parliamone andate a cagare io ho bisogno di mangiare cristo devo mangiare dammi un po di cobblestone ok due pezzi di cobblestone ok ci vuole sei blocchi no 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 sta ancora distante non preoccupiamoci troppo ok 7 8 e 9 per ho visto il maiale aspetta ho sentito maiale dov'era dov'è maiale uh ciao maiale maiale porca maiale di merda come cristo ti becco da lì vabbè dettagli facciamo che ci prendiamo direttamente tipo una crafting table ok 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 dall'altra parte non c'è nessuno quindi posso stare pieno sicuro mangiamo qualcosa velocemente al volo a realtà potevo usare plank uh 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 aspettate dice qualcuno l'ho visto non è andato dov'è andato dai vieni tu tipo a uccidermi maiale maiale allora comunichiamo tra noi no maiale maiale va a cagare è morto morto magicamente misteriosamente una morte ciao ship tu anche tu potresti darmi da mangiare vero porca ma siete davvero messi in posizioni migliori del mondo è grazie creatori di minecraft siete molto bravi a far sponare gli animali mi dicono non so se sta da lì però ovviamente quando eccolo lì ho beccato e non l'ho beccato stavolta ah lo becco lo becco ok oh merda aia è una gara chi spara meglio con l'arco e ovviamente io la potrei perdere perché ovviamente voi sapete come sparare con l'arco o vieni qui piccolo amico ok devo fare molta attenzione ragazzi miei ok lui non ha troppe frecce perché sono già spammate come sto facendo io ho visto creeper di merda lo sapevo che esplodeva lo sai lo sapevo raga che mi esplodeva e porca che non ho cibo adesso e sei un pezzo di stronzo loro cristo no 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 amici amici allora voi state tranquilli qua non preoccupatevi non preoccupate abbiamo bisogno di cibo abbiamo bisogno non abbiamo troppo cibo siamo nella merda più totale eh vai sparami altre frecce stronzo ah sto prendendo cuore sto guardando e guarda che si è fatto di là quello sì ciao e la madonna e vien qua fatti beccati uomo combatti oh cristo mi attacca e devo andare dall'altra parte devo andare per forza veniamo di lì va potesse che ragazzi lui no 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 stavo cadendo che cristo fai che cristo fai ulisse ok ok allora facciamo così facciamo così specchiamo meno legno possibile e corriamo come ci fossero domani vai ulisse ce la puoi fare ce la puoi fare non farti beccare 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 siamo fighi anche ok oh merda che bello ok allora c'è una mucca qua vicino e lo sapevamo perfetto ok è nato tipo lontanissimo mucca allora noi ragioniamo io ti voglio un po' più qua mucca calmati mucca perfetto due bistecche va benissimo mucca mucca sì che io ti amo stavolta oh cristo eh oddio devo uccidere qualcosa ah ok effetto l'ho ucciso e il più lontano ai 140 blocchi e lui ok 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 no problem coltizio è morto quindi qua contro quello scheletro perché tipo quello scheletro probabilmente l'avrà ammazzato massacrato fatto quello che vuole non me ne frega niente basta l'ho ucciso ok ho preso un po' di frecce dalla dal nostro arciere arciere di fiducia oserei dire è caduto raga è caduto come un idiota e l'altro tipo c'è andata da blocchi va benissimo va benissimo non si si può fare si può fare la carting table mangiamo qualcosa allora mangiamo sta bistecca andiamo giù vediamo se c'è qualche qualche l'archiblock qui sotto ok c'è bisogna trovare del melone o del cibo oh cristo oddio oddio mi uccido no לי allora devo fare tipo come prima vai attacca a satana a satana vai 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 vattene via vattene via vai no 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 Ok, allora Not bad, not bad Ragioniamoci Loro non so dove siano Ok, sto andando verso di lui In modo molto Puzzolente insomma Più o meno, 50 blocchi E lì vicino E lì vicino che si avvicina Eccolo lì, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto Ok, lui probabilmente mi ha visto anche Io mi nascondo qui Allora, molto felice e contento, non so se lo vedete tipo Io non vorrei avvicinarmi troppo Però, in realtà, non ha Ok, no, sta provando a venire da me, sta provando, ok Ok, molto tranquillamente, non aspettiamo Adesso non abbiamo troppi problemi Ah, mi sa che si è fatto il giro tipo sotto Sto suonando come il parco No, va bene Ok, ragazzi miei, eccolo lì Ah, merda Oh Cristo, uno squid, porca Raga, mi ha buttato uno squid Mi ha buttato il pezzente Oh, merda Lui, lui ha cibo, io non ce l'ho Lui ha cibo, io non ce l'ho Lui ha cibo, io non ce l'ho È tutta una... Eh, però lui c'ha pure la spada inciantata Oh Cristo, è qua lì Ok Devo far rispeccare tutte le frecce che c'ho Perché tipo ce l'ho 12 solamente Si sta facendo una trincea al pezzente Vedami che scemo Raga, raga, mi serve carne, mi serve Quindi mi serve una fornace Non ce l'abbiamo, porca vacca Recupera un po' di cobblestone Ok, mi serve con la carne Perfetto dovevo metterla a cuocere, raga Lui sta sparando E in realtà voglio Voglio far disprecare la... Voglio far disprecare la roba, insomma Perché male che vada Lui finisce le frecce Sta a 50 blocchi Ok, sta ancora lì Facciamoci un attimo velocemente un po' di questa cosa Dimmi un attimo se si può fare così Ma no, la desidera è non questa, questa Non si può fare... Porca vacca Oddio, aia, mi ha beccato col fuoco Ma ha beccato col fuoco Ma no Pezzente Dai, vai, vedi qua 42 blocchi, sì Allora, so che più o meno Se non arriva più vicino di così Sono tranquillo Dovrei recuperare i cuori Dovrei recuperare La cosa migliore di Minecraft è recuperare i cuori Soprattutto quando hai cibo Se non hai cibo invece se non hai merda Ok, uno è morto Ne sono nascite in tre, sono rimasti Sta arrivando Sta arrivando Oh Cristo C'è la mela d'oro per forza Porca vacca Mi sono suicidato Eh, vabbè Non potevo far nulla, ragazzi Aveva tipo la mela d'oro Sporremente c'era Tutto il big enorme e cose che c'aveva Va bene È andata male questa partita Ma fa nulla Cioè, siamo giocati molto Tatticamente Tipo, è stato molto bello Fatemi sapere nei commenti Se ne vorreste vedere altre Ovviamente, se avete dei server Consigliatemi Se avete altri minigame Fatemelo sapere qui sotto nei commenti Noi ci vediamo nella prossima puntata Di Sky Lucky Sky Wars E lì c'è qualcuno Lì in mezzo Sta qua il tizio Ora ha fatto il tipo Il giro nel mezzo Ha preso tutto Vatti Guardate Saranno lotte Crudeli Tra quei due tizi Noi ci vediamo Nella prossima puntata Ciao